Bella a tutti asfaltoni, benvenuti su Leontube, eccoci in questa rubrica del venerdì andiamo a vedere subito le novità, come avevano annunciato anche nei social arriva l'evento speciale della Lamborghini Contach quindi in questo momento, ecco intanto è finito il The Clash il primo The Clash è finito, abbiamo vinto perfetto, quindi andiamo subito a riscattare il nostro premium 25.000 punti di club reputazione, 250 gettoni e 1.500.000 crediti e 10 pacchetti classe S che ci daranno tanti gettoni, monete rosse, monete di scambio siamo veloci, un bel po', 440, no, sui 400, 3.96, perfetto intanto il club ha raggiunto già il primo premio, ma io avrei dovuto riscuotere il premio finale, credo e andiamo a vedere qui nell'inventario se per caso... ah, eccoli hai dei premi da riscuotere di una stagione precedente, eccoli qua infatti ne avevo due ancora da riscuotere i 300.000 crediti e il pezzo di importazione epico della sesto elemento, perfetto e allora ragazzi iniziamo subito a guardare qua il club per prima cosa, abbiamo subito 5 progetti della Lamborghini Diablo GT 5 progetti della Lamborghini Reventon Roster 5 progetti della Sian FK P37 5 progetti della Sesto Elemento 5 progetti della Conta CLP804 e il pezzo di importazione epico della Lamborghini Conta CLP804 e i token sono 175, non tanti 2.700.000 punti club da fare, quindi dateci dentro ragazzi ma non finisce qui perché è già iniziata una nuova fase di The Clash e questa volta siamo più preparati, diciamo rispetto al solito adesso abbiamo i tre giorni e una fase di riscaldamento allora qui eccoci qua, intanto noi siamo arrivati nel 25% con la gara precedente è ovvio il resto è arrivare nei primi 10 che è molto più complicato però va benissimo vediamo se c'è una classifica che fa vedere se c'è una classifica siamo 87 arrivati col mio club andiamo a vedere i primi chi sono secondo me erano no, non loro, no non mi fa vedere più in su peccato ah, eccoli club migliori andiamo a vedere quali sono i club migliori e i cosi white legend penso gli altri che hanno cambiato nome eccoli infatti white legend io ve l'avevo detto che sarebbero stati sono i più forti indubbiamente loro in ogni gara arrivano sempre tra 5 o 6 tra i primi 10 i white legend sono i più forti sono i più forti messi tutti insieme e poi ci sono gli amico questi non li conosco i drunkani si vede anche loro sono molto forti un edge 6 dragon rampage si conoscono fast and furious si conoscono questi non si conoscono un gran che gli un edge 6 china jump si sono gruppi che si conoscono mancano i kamikaze tra i migliori mancano i kamikaze potrebbero aver avuto problemi kamikaze emerald diciamo e magari loro puntano molto sulla quantità si non sono nemmeno nei primi 60 e perfetto allora quindi due novità la stagione normale con i premi che abbiamo visto e la nuova stagione the clash quindi andiamo agli intanto qui nel pass ce l'ho il pass non capisco cosa cosa mi chiede mi vuol far comprare l'estensione andiamo a vedere intanto qua prendo anche Lamborghini perfetto ne prendo uno vado al risparmio e qui ragazzi bisogna comprarli avendo i pezzi perché per il the clash avere la macchina potenziata al massimo ti dà qualche punto in più quindi quando abbiamo i prodotti le monete possiamo comprarlo allora non vedo nessun pacchetto nuovo eccolo si il pacchetto della diablo se non era già uscito non lo so l'ho visto solo oggi perfetto andiamo a riscuotere anche tutti gli altri premi allora qui un sacco di premi da ritirare qui ragazzi in questo Grand Prix round 4 c'è qualcosa che non quadra qui Basil del China Jump ha fatto un tempo stratosferico lui che non aveva mai fatto tempi tempi buoni diciamo con la stessa auto era stato molto più lento di me nel round prima ma ora magicamente con la stessa auto vedete gli davo 3 secondi su quella pista ora magicamente mi da quasi 4 secondi no 3 secondi sono 2 secondi e 2 su una pista da 30 secondi quindi ha fatto un gran bel salto di qualità si è allenato molto eh ragazzi questo è vero è vero è vero quindi non possiamo nascondere che è migliorato però come avevamo detto l'altro giorno questa è la classifica e ok andiamo a vedere la classifica generale io sono secondo lui vincerà perché ve lo dico già lui vincerà anche il prossimo round visto il miglioramento che ha fatto questo e quindi andrà a 220 questo arriverà secondo perché è più forte e quindi altri 45 punti per lui e arriverà a 235 e poi e poi io che dovrei arrivare terzo quindi prenderò altri 40 punti e andrò a 220 quindi a parità con lui ma lui è entrato pagando l'avevamo visto già in un altro video che lui è entrato pagando quindi non ha fatto le qualifiche vediamo se ce lo fa vedere anche ora no non ce lo fa vedere però lui è entrato pagando e quindi a parità di punti io ho il tempo di qualifica migliore e dovrei vincere la chiave io ma vedremo questa storia come andrà a finire comunque chiusa questa parentesi del del Grand Prix dell'Uver Prix andiamo a vedere il nuovo evento Lamborghini Conta CLP 800 trattino 4 ok andiamo a vedere abbiamo 21 giorni per farlo le auto già vediamo questa è la Diablo serve la Diablo vediamo un po' ottiene progetto quindi dobbiamo avere la Diablo per poter partecipare a questo evento ma non solo dobbiamo averla a 2 stelle perché anche se il primo livello il secondo livello necessita soltanto 10 condizioni che sono queste prime qua però andare a prendere un po' di premi 3 stelle e qui ragazzi purtroppo anche qui devo fare una nota di rammarico perché per un errore mi sono volati via tutti i gettoni questi qua su che mi erano messi da parte per puntare a quest'auto e niente la Gameloft non mi li ha rimborsati si sono volatilizzati 35 mila gettoni token per fare tentativi extra del Gran Premio che ero primo tra l'altro quindi una cosa inutile veniva fuori 2 2 mila gettoni ad ogni tentativo e mi era addormentato mentre giocavo e evidentemente sono partiti dei tasti random con il gamepad sotto il sedere e non mi hanno purtroppo rimborsato niente quindi ora dovrò far tutto da capo o quello che riesca a fare comunque per la Diablo abbiamo visto prima c'è il pacchetto quindi pacchetto da 7,50 questi li vediamo dopo qui al negozio allora il pacchetto da 7,50 dove noi troviamo garantiti 10 3 3 progetti la frequenza sempre al 10% perfetto quindi è un classico e giusto per curiosità andiamo a vedere quanti progetti sono necessari per quest'auto qua che non ho ancora visto se è una classe B o una classe C allora è un'auto di classe C quindi saranno 162 no non sono tantissimi sono 134 ne servono 35 per la prima stella 15 per la seconda 21 per la terza quindi stiamo parlando di 71 progetti per arrivare alla terza stella 71 progetti se andiamo a fare un piccolo calcolo ci servono 10 mila 11 mila anche 12 mila gettoni quindi sarà molto difficile mentre in un altro modo ce l'avrei fatta comunque andiamo a vedere il livello 2 sempre auto stellate e stiamo parlando della sesto elemento anche qui non ce l'ho quindi non posso partecipare e qui dopo invece c'è la prova della della contact del nostro livello quindi una stella però dobbiamo fare 25 condizioni per provarla quindi bisogna portare almeno la diablo ah no ma anche questa poi non è in prova gratuita quindi non si può giocare poi si andrebbe a 20 con una delle due sbloccata si andrebbe a 25 e poi dopo un'altra auto sempre da sbloccare quindi difficilissimo e questa è in prova gratuita la Lamborghini Reventon Roster diciamo che questa stagione purtroppo dobbiamo dirlo non sembra fatta molto bene perché si costringe ad alcune cose ad avere macchine che non sono mai uscite qui ancora con la Countach si possono andare a prendere bei premi e poi qui si inizia quindi dalla quarta alla quinta stella come era come è l'altro evento diciamo della Lotus e via ovvio che si vanno a prendere bei premi dopo purtroppo se non fosse accaduto quell'incidente lì con i gettoni questo l'avrei l'avrei fatto l'avrei investito per poterlo fare comunque un po' di gettoni si vanno a recuperare un po' di crediti sono tanti progetti ok e poi la prova finale ovviamente dove si vanno a prendere i soliti premi 5 milioni di crediti per il primo 1000 gettoni 3 pezzi di importazione che potrebbero non avanzano di sicuro ok comunque abbiamo visto quindi il solito si sblocca un livello ad ogni giorno ovviamente se riusciamo ad avere le condizioni qui partiamo subito bloccati per il momento comunque ci sono anche i premi club come gli altri eventi allora passiamo ai giornalieri i giornalieri ok intanto è finito l'evento della Lamborghini Essenza SCV12 andiamo a riscuotere i nostri premi sono riusciti a rientrare nei 50% e prendo un pezzo di importazione epico quindi buono 300.000 crediti non ci lamentiamo abbiamo già sbloccato anche un livello del pass poi ci sono questo sono arrivato nell'1% ok però c'è premi base diciamo chiamiamoli base è finito anche questo ok ho fatto poco perché i premi non mi interessavano anche qui sono riuscito ad entrare nel 5% i premi ovviamente sono buoni ma non eccezionali vediamo se c'è qualcos'altro da ritirare allora sì questi sono i soliti da ritirare ormai questi sono quelli di ritiro automatico da giocare ci danno questi premi buono per chi è a livello 12 perché serve il livello 12 di garage per ritirare automaticamente i premi senza giocare le gare comunque buono perché vedete si fanno tante monete di scambio senza giocare si fanno anche un sacco di crediti qui basta avere praticamente l'auto a 6 stelle e ti degna automaticamente il premio da 80.000 qui sono tanti ragazzi sono tanti i crediti allora ok abbiamo riscosso un po' tutto perfetto allora andiamo a vedere la novità la draco la caccia all'auto batte il tempo di 52 secondi con un'auto di classe c per ottenere tutti e tre i pacchetti poi con la cadillac cnconcept 49 secondi da battere per avere 5 progetti in più e con la ferrari 488 gtb da battere 46 secondi per avere altri 5 progetti in più la draco mi sembra che c'è stata già poco tempo fa dovrei averla al top andiamo a vedere se mi manca qualche progetto è una classe d no quella è la griffi no non è una classe d è una classe c non è male ha una buona velocità di punta e non la trovo è una classe b buono allora si io ce l'ho al massimo quindi per me diciamo quell'evento non serve moltissimo ok quindi ragazzi se non avete quest'auto è il momento di farlo è ovvio che ci sono tanti tanti eventi da fare e quindi diciamo dovrete un po' scegliere quale è meglio per voi però ovviamente qui avete modo di portare di portare la drago al massimo è una classe b sono un po' di progetti sono 188 speriamo che il drop sia buono 55 per la prima stella 35 la seconda 44 la terza 54 la quarta è solo 4 stelle ma sono 188 progetti che servono per potenziarla al massimo allora questi sono gli eventi che c'erano ancora adesso diciamo e che ancora devo fare tra l'altro perfetto questo devo ancora farlo e questo è quell'evento classico da prendere i gettoni con le auto c'è questo nuovo event ah vabbè questa è la rivolta delle auto della taigan turbo s quindi per chi è riuscito a fare a sbloccare l'auto o a completarla nella vecchia caccia c'è il solito evento stando nel 3% due pezzi di importazione stando nel migliori 8% un pezzo di importazione poi via scendere i soliti premi e quindi diciamo non c'è un evento giornaliero davvero nuovo e allora passiamo avanti passiamo al multigiocatore uno contro uno speriamo sempre solito sempre soltanto crediti quale auto la diablo ok almeno con questa possiamo fare le missioni perché l'auto dovrebbe essere al massimo e quindi possiamo fare le missioni del pass almeno quelle queste vi ricordo vi ricordo velocemente bisogna cercare di fare 12 vittorie ma ci fermeremo alla terza sconfitta quindi abbiamo massimo tre sconfitte da fare dopodichè prenderemo il premio corrispondente al livello a cui siamo arrivato il premio è crescente fino alla nona tappa è variabile nel senso che potrete trovare ad esempio qui nel sesto da 40 a 55 è variabile dal decimo diventa fisso ovvio il più remunerativo è quello da 12 con 250 mila crediti però personalmente considerando anche il riscatto automatico dei crediti non ha molto senso fare questo uno contro uno se soprattutto si hanno altre gare da fare o altri eventi da fare visto che ce ne sono anche in abbondanza allora qua la serie è terminata qui non sono riuscito ad arrivare in fondo purtroppo il tempo è quel che è però mi sono riuscito a qualificare nei primi 500 quindi un ottimo risultato con 50 gettoni qui magari se giocavo chissà se sarei potuto arrivare leggermente più in alto perché questo probabilmente erano pochi a farlo e poi abbiamo trovato anche un bel progettino pezzo di portazione epico buono perfetto andiamo a ritirare la serie mondiale anche qui poco tempo non sono riuscito ad arrivare nei primi 3000 quindi ci accontentiamo dei premi pacchetto e sono solo monede rosse nemmeno le andiamo a guardare quindi nuova serie fantasma quindi senza espulsioni 30.000 questa ormai lo sappiamo è sempre 30.000 andiamo a vedere subito le auto più sostanziose la fener quindi pacchetto fener anche qua con la possibilità di trovare la fener i 200 token e alla fine il pezzo epico di una delle auto del multiplayer i premi finali sono sempre gli stessi quindi ecco vedete se fossi arrivato anche in quello prima nei 3000 avrei preso una fener o una zembo 10 gettoni in questo pacchetto qua e poi lì si va a salire più si sale di posizione migliore sarà il premio questo si fa con tutte le auto andiamo a vedere l'altro con la Lamborghini terzo millennio dovrebbe essere da 3000 senza benzina si esatto senza benzina l'abbiamo visto andiamo a vedere i premi sarà il pezzo di portazione epico finale 50 e 200 mila si perfetto è classico anche questo qua questo è prova gratuita quindi dovrebbe essere abbastanza facile da fare da completare ok il club l'avevamo visto diciamo che non ci sono tantissime novità andiamo a vedere invece le missioni allora intanto un piccolo rewind andiamo indietro qui nell'episodio 2 Lamborghini Contach LP eseguimento di corse perfette qui lo possiamo fare nell'evento se riusciamo a sbloccare le 20 condizioni Lamborghini sesto elemento abbiamo detto c'è l'eseguimento di salti quindi lo facciamo nel multiplayer 2 che è stato messo adesso completa corse con la Lamborghini Diablo GT questo si fa nell'uno contro uno e manca questo della Lamborghini Sian con due stelle ma questo pure lo possiamo fare nell'evento della Lamborghini sesto elemento che sta starà per scadere andiamo un po' a vedere manca ancora una settimana qui dobbiamo avere l'auto a due stelle dopodiché riusciremo a farlo qui vedete in una di queste qui sbloccando l'auto però voglio portarla a due stelle mancano un sacco di carte un sacco di progetti ben oltre quasi 70 ne mancano diciamo molto complicato a meno che non mettano poi la FK Sian in qualche evento magari c'è già vediamo un po' prova gratuita ah però deve essere sì deve essere prova gratuita eh no non c'è deve essere in prova gratuita con l'auto maxata per poterlo fare comunque adesso abbiamo la possibilità di farne alcuni di quelli e poi passiamo agli episodi della terza settimana esegui un denitro in una singola corsa 3 esegui agrobazie 50 installa pezzi di importazione 8 completa corsa in modalità carriera arriva primo nel multigiocatore 3 volte queste sono tutte abbastanza semplici esegui salti con lo Lamborghini SC20 con 3 stelle quindi anche questo è difficile è uguale la Lamborghini Sian FK37 a 3 stelle esegui avvitamenti in una singola corsa di un evento nell'arena esegui agrobazie con la Lamborghini diablo 3 stelle arriva primo negli eventi giornalieri Lamborghini Reventon Roadster con 4 stelle tempo con nitro in una singola corsa 10 secondi con la Lamborghini sesto elemento a 3 stelle esegui 360 in una singola corsa 8 360 in una singola corsa con la Lamborghini Conta CLP a 3 stelle allora Lamborghini sesto elemento la possiamo fare ok andiamo a vedere se ce la conta qui nel multigiocatore ah no è la terzo millennio non la sesto elemento quindi niente ce la facciamo a farla la diablo invece ce la conta nell'uno contro uno e niente qui è tutto difficile da fare perché bisogna avere le auto più che fare la missione qui bisogna avere le auto e niente questa rubrica finisce qui mi raccomando continuate a seguirci e buon gioco a tutti ciao a tutti sì Grazie.